Ciao e benvenuto in Coffee Book, ogni giorno le informazioni di un libro alla durata di un caffè. Questo riassunto in audio del libro Il potere di adesso, una guida all'illuminazione spirituale, di Eckhart Tolle, è offerto dall'app Skillsland, disponibile su tutti i dispositivi Apple Android. Buon ascolto! Nell'adesso, nel presente, i problemi non esistono perché sei integro e perfetto. Per intraprendere il viaggio nel potere di adesso, avrai bisogno di lasciare da parte la tua mente e il falso sé che questa ha creato, l'ego. L'autentico potere umano si trova arrendendosi all'adesso. Scoprirai che il corpo è una delle chiavi per entrare in uno stato di pace interiore, così come lo sono il silenzio e lo spazio intorno a te. Infatti, l'accesso è disponibile ovunque. I punti di accesso o portali possono essere usati per portarci nell'adesso, dove i problemi non esistono, nell'illuminazione. Ma che cos'è? Illuminazione significa trovare la tua vera natura, al di là del nome e della forma. Il Buddha la intende come la fine della sofferenza. Il più grande ostacolo all'esperienza di questa realtà è l'identificazione con la propria mente, che rende compulsivo il pensiero. Non essere capaci di smettere di pensare è un'afflizione terribile. La mente usata nel modo sbagliato diventa oltremodo distruttiva. Tu ritieni di essere la tua mente. Questa è l'illusione. Allora è la mente a usare te inconsapevolmente. E allora è la mente a usare te inconsapevolmente ti identifichi con la tua mente. Allora è la mente a usare te inconsapevolmente ti identifichi con la tua mente, per cui non sai nemmeno di esserne schiavo. È quasi come essere posseduto senza saperlo, per cui scambia per te stesso. L'inizio della libertà è capire che tu non sei l'entità, quella che pensa, e saperlo ti consente di osservarla. Riguardo le emozioni, bisogna prendere l'abitudine di domandarsi che cosa sta avvenendo dentro di me in questo istante. Un'emozione di solito rappresenta uno schema di pensiero amplificato e carico di energia, e a causa della sua energia, spesso insostenibile, si finisce per identificarsi con l'emozione. Tutte le emozioni sono variazioni di un'unica emozione, paura. Una sensazione continua di minaccia che include anche un profondo senso di abbandono e incompletezza. Non sarai libero da questo dolore finché non smetterai di trarre il tuo senso del sé dall'identificazione con la mente. Inoltre, le emozioni positive come amore e gioia sono inseparabili dal tuo stato naturale di sintonia interiore con l'essere. Barlumi di amore e gioia o brevi momenti di pace profonda sono possibili quando si creano intervalli nel flusso dei pensieri. Per la maggior parte delle persone, simili intervalli si presentano di rado e solo per caso, in attimi in cui la mente rimane senza parole, a volte innescati da uno spettacolo di grande bellezza, da uno sforzo fisico estremo o persino da un grande pericolo. All'improvviso vi è quiete interiore, e in tale quiete vi è una gioia sottile, ma intensa, vi è amore, vi è pace. Lascia che il respiro ti conduca dentro il corpo. Se in qualunque momento trovi difficile entrare in contatto con il corpo interiore, di solito è più facile concentrarti prima sulla respirazione. Quando è necessaria una risposta, una soluzione o un'idea creativa, smetti per un attimo di pensare, respira e concentra l'attenzione sul tuo campo energetico interiore. Quando ascolti un'altra persona, cerca di non ascoltare soltanto con la mente, ma con l'intero corpo. Cerca di diventare un tutt'uno con lui. Cerca te stesso nell'altro. Adesso. Se ti interessa approfondire l'argomento trattato in questo libro, dentro l'app Skillsland hai due audio, a seconda del tempo che hai a disposizione, e due riassunti scritti, se ti piace di più leggere anziché ascoltare. Ogni giorno, centinaia di libri subito a tua disposizione. Provala! Clicca sul link in descrizione. Ci vediamo al prossimo caffè! Clicca sul link in descrizione.